ragazzi come da titolo mossa totalmente sbagliata questa qua sarebbe una mossa totalmente sbagliata che non richiede neanche tanto ragionamento credo da parte di tutti e non riesco a capire perché la juventus si stia impelagando su questa vicenda ne parliamo in questo video si tratta ovviamente di un rinnovo di contratto che farà discutere tanti di voi qualcuno mi dirà no non sono d'accordo come giusto che sia fatelo ovviamente con educazione dal momento in cui avete un'idea diversa dalla mia perché vi dico questo perché mi arricchisce anche l'idea differente perché vado a smussare certi angoli della mia opinione che in questo momento a primo acchito può essere anche forte che quindi mi raccomando e vi invito ovviamente iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto gran parte di voi che la parte della gente che guarda i miei video non è iscritta al canale per cui benvenuti accomodatevi c'è spazio per tutti vi richiesto soldi non vi richiedo abbonamenti se volete abbonarvi per dare un sostegno al canale benvenga ma non c'è alcun obbligo i contenuti sono gratis per tutti questo è importante allora passiamo al discorso caldo sostanzioso sostanzioso il discorso sostanzioso è questo a quanto pare secondo unico schiera la juventus nelle prossime settimane incontrerà l'entourage che è riconducibile a una persona sola di Rabiot quindi veronique Rabiot per un eventuale rinnovo di contratto io vi chiedo siete favorevoli o contrari a questa mossa vi do cinque secondi per scrivere il vostro commento no sì fatto io vi dico la mia io già questa estate avevo dello scetticismo tuttavia ho compreso che al di là delle questioni di natura tecnica rientravano altre possibilità economiche da cogliere tipo il rinnovo stesso il rinnovo di Rabiot ha portato la juventus a tenersi un giocatore che ha performato bene nella stagione scorsa che ha un costo sia abbastanza elevato ma col decreto crescita poi neanche neanche esasperato ok ha tenuto bassi costi perché lasciandola andar via la juventus avrebbe insomma acquistato magari un altro centrocampista e tra l'acquisto del giocatore con cartellino e costi di ammortamento eccetera più l'ingaggio probabilmente avrebbe alzato quelli che sono i costi della rosa stessa magari avendo un giocatore che ti garantisce un pelo meno di resa rispetto a Rabiot per cui questa scelta conservativa col tenere allegri la trovo anche una mossa che conservativa non innovatrice ma che ci può stare in una certa logica ok quel che invece trovo un po particolare è il rinnovo potenziale da qui in avanti e vi spiego anche perché questo a quanto pare sarà l'ultimo anno di allegri lo dicono tantissimi giornalisti lo dicono i giornalisti vicini a lui lo dicono anche i suoi amici galeone parlato di un ultimo anno di allegri alla juve sabatini ha parlato di un ultimo anno di allegri alla juventus per cui c'è l'effettiva possibilità che questo possa essere l'ultimo anno aggiungo io per fortuna visto l'andazzo per fortuna poteva succedere prima questa cosa a mio parere senza voler male senza screditare senza insultare ok però è ancora qua ragioniamo su cosa è stato fatto alla juventus per lui e cosa la juventus potrà fare poi in futuro quindi c'è da creare una linea di discontinuità arriverà un nuovo allenatore che avrà bisogno di certi giocatori di altre situazioni soluzioni tecniche differenti magari modulo differente eccetera 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 tenere uno come la bio significa in realtà dare continuità rispetto a ciò che è stato fatto in passato con allegri per cui la trovo una mossa molto discordante rispetto a quella che è la logica progettuale rabbio i ragazzi non è capitato probabilmente nel momento peggiore della juventus lui ha visto la parabola discendente dallo scudetto di sarri fino ad oggi ha visto il momento peggiore della juve non è un giocatore da buttare via è un giocatore che ha avuto la sua resa anche nell'ultimo anno benissimo secondo me ha over per formato in un momento in cui bisognava in qualche modo colmare una certa carenza di gol una certa carenza di situazioni lui è stato comunque bravo lodevole il suo impegno e la sua grande professionalità perché chi sta alla continassa mi ha raccontato di un rabbio bravo professionale sbalorditivo in ogni test di natura fisica eccetera proprio il giocatore che ha il fisico da professionista non c'è nulla da dire da questo punto di vista il punto un altro rabbio secondo me è uno dei giocatori che dal punto di vista tecnico tattico è tra i più sostituibili perché non è un leader tecnico non è un leader carismatico è un giocatore gregario gran gregario dell'anno scorso ripeto over performato ma se guardiamo i numeri totali sono numeri di un giocatore che fa probabilmente il grande atleta perché percorsa progressione rapidità qualità tecnica è più un atleta che non un fantasista un calciatore un regista straordinario ecco è un giocatore che fa il suo però e io da questo punto di vista è inappuntabile non gli si può dire nulla il punto è che secondo me andare a rinnovare rabbio con l'anno prossimo che a scade il decreto crescita per lui per cui bisognerebbe pagare l'ingaggio all'ordo in maniera pesante è un ingaggio importante beh a quel punto ci si può ragionare su un'eventuale successione senza troppi patemi si va a prendere un centrocampista che magari ha un ingaggio in questo momento basso uno di quelli promettenti gli si dà un ingaggio adeguato alla insomma alla sua caratura alla sua bravura oltre che le sue potenzialità e secondo me si va a spendere molto molto meno ipotizzando un rabbio che costa 7 milioni e mezzo netti a stagione l'anno prossimo andiamo a pagare quasi sui 15 se noi prendiamo un giocatore anche per che ne so 50 milioni dall'estero che afferente uran 50 milioni tu vai a dargli magari 2 3 milioni di stipendio pagheresti quanto rabbio all'ordo però hai un giocatore che potenzialmente ti dà quel qualcosa in più che può essere quel qualcosa in più che ha 22 23 anni è un grande percorso davanti magari con un nuovo allenatore un giocatore che è molto più congeniale molto più malleabile molto meno monocorda rispetto rabbio cioè è questo il ragionamento che io mi auguro facciano alla continassa che non ci si faccia ingolosire dall'opportunità di tenere un giocatore che l'anno scorso ha performato e quest'anno ancora non l'ha fatto poi magari anche per evidenti difficoltà fisiche non ha fatto la preparazione con la juve e magari entra più tardi nel giro buono come quello dell'anno scorso che inizia a far gol inizia a fare delle situazioni a risolvere delle partite importanti anche lui eccetera io reputo il rinnovare rabbio una scelta molto conservativa che non sposa la potenziale linea di discontinuità con il nuovo allenatore questo è il mio pensiero detto ciò aspettiamo e vediamo l'evolversi della situazione io non sono contrario e insulto rabbio sono contrario andrei avanti oltre rabbio e ringrazierei tanto rabbio per quello che ha fatto perché ripeto è stato un professionista inappuntabile ragazzi questo me lo ha raccontato qualcuno che alla continassa ci ha lavorato quindi nulla da dire ad adrien però per scelta tecnica dovessi essere io uno di lì e mi chiedono ma tu cosa ne pensi ragionandoci un attimo forse guarderei un pelo oltre anche perché credo che in questo momento il centrocampo della juventus sia in parte male assortito che ci sia bisogno di caratteristiche tecniche importanti che in questo momento mancano e approfitterei del vuoto rabbio e della capacità economica che rabbio lascia comunque di investire alla juventus di prendere un giocatore che ha delle potenzialità differenti e che possa essere un po' un giocatore complementare rispetto alle caratteristiche che abbiamo già in rosa questo è il senso detto ciò attendo le vostre opinioni sotto nei commenti ragazzi iscrivetevi al canale ci vediamo più tardi per la conferenza di max allegri vediamo che ha da dire quali sono le novità se c'è qualcuno acciaccato se c'è un tandem di attacco differente insomma ad oggi formazioni sbagliate ad oggi zero quando sbaglierò lo dirò non mi tiro indietro quando sbaglio la formazione lo dirò può capitare perché ascoltando bene come inter ormai le interviste di allegri si capisce chi gioca chi non gioca eccetera e poi chi segue quotidianamente la continassa lo svelano chi è chi gioca chi potrebbe giocare non giocare quindi aspetto un po' signori belli questo è tutto vi invito ovviamente all'iscrizione al canale sempre fino alla fine forza Juve non si molla un cazzo grazie grazie